L'858, tessere di riconoscimento, patenti, agendine, sono in tutto sette oggetti. Qua è scolorito, comunque dell'Associazione Marinara Fascista. Questa è un'agendina del 1928, mai usata. Qua abbiamo una tessera delle ferrovie. Questa è una tessera postale. Eritrea, circolazione autoveicoli, patente di abilitazione. Questa è una tessera dell'esercito. Infine, quest'altra agendina del 1940. Se volete altre informazioni o video, scrivete www.filateliachiocciola4vaiocchi.com